Se la vittoria di Foiano sette giorni fa aveva alimentato una piccola e flebile speranza non c'è dubbio che la battuta interna l'ennesima in questo girone di ritorno per la Baldaccio Bruni con il San Geminiano ha definitivamente calato il sipario sulla già eccellente stagione della formazione alto-Tiberina che qui vediamo andare al tiro con Quadroni, un tiro che termina alto. Subito il San Geminiano dimostra di avere intenzioni bellicose con questo tiro su schema che termina alto di poco e la conclusione era di Caponi. Ancora il San Geminiano si rende pericoloso con questa azione insistita di Baldini che mette in mezzo e proprio al momento di chiudere tempestivo l'intervento di un difensore della Baldaccio che nega la possibilità del gol. La Baldaccio si affida a ripartenze ancora Quadroni che mette in mezzo un pallone velenoso che sfugge al portiere che in tre occasioni riesce con la complicità anche dei suoi difensori a evitare il peggio. Ancora la Baldaccio che si propone con quest'azione in profondità l'appoggio e la conclusione il tiro è ribattuto da un difensore e qui sono i sussulti di una formazione che ormai ha ben poco da dire. E siamo nel finale, l'episodio chiave, il calcio di rigore, siamo al quarantesimo, il fallo di Bruni e danni di Bandini, costa anche l'espulsione all'esperto difensore della formazione diretta da Morini. Dal dischetto si porta a Paparelli che batte Giovagnoli con un tiro alla sua destra, rasoterra. 1-0 e partita di fatto in discesa per la squadra rosso-verde. Con le immagini passiamo al secondo tempo, ti aspetti la reazione della squadra di Marmorini e invece al dodicesimo di fatto la partita si chiude con questo lancio in profondità. C'è un'incertezza della difesa della Baldaccio Bruni e bravo Bandini ad approfittarne e a battere con un tiro velenoso il portiere Giovagnoli sul primo palo. Quindi la gioia della formazione nero-verde, nel finale non ci saranno più spazi per poter recuperare, chiude anche la stagione della Baldaccio Bruni che merita tuttavia il plauso allo stesso.